carissime carissimi bentornati bentornate oggi parleremo delle conseguenze sociali politiche ed economiche della prima rivoluzione industriale la prima rivoluzione industriale come abbiamo detto parte in inghilterra e si diffonde poi in altri paesi europei in particolare in belgio e francia e negli stati uniti d'america con la prima rivoluzione industriale inizia a delinearsi una differenziazione tra paesi industrializzati e paesi non industrializzati ed anche all'interno di uno stesso stato tra zone industrializzate del paese zone non industrializzate le tensioni tra le diverse esigenze di due realtà coesistenti all'interno di un'unica formazione statuale cioè all'interno di uno stesso stato l'esistenza di zone che hanno preso il treno dell'industrializzazione e zone invece che restano ancorate a un sistema produttivo fondamentalmente agricolo porteranno i governi a privilegiare l'una a discapito dell'altra e quasi sempre i governi sceglieranno di privilegiare le zone industrializzate a discapito delle zone agricole in alcuni casi le tensioni tra zone industrializzate e zone agricole arriveranno a generare vere e proprie guerre civili come quella tra stati del nord e del sud degli stati uniti d'america la cosiddetta guerra di secessione americana combattuta tra il 1861 e il 1865 perché perché certo la questione principale che viene presentata è quella della schiavitù il nord abolizionista e il sud invece schiavista ma dobbiamo pensare che agganciata alla questione dello schiavismo c'era anche una questione di sostenibilità economica l'economia del sud era irrealizzabile insostenibile senza lo schiavismo mentre l'economia del nord non aveva bisogno di schiavi quindi agganciata alla questione dello schiavismo c'era anche una forte differenza da un punto di vista di modello di sviluppo economico uno degli effetti più evidenti della prima rivoluzione industriale fu il rimpicciolimento del mondo l'applicazione della macchina a vapore ai trasporti e rende i viaggi più veloci e porta ad una nuova percezione del rapporto tra spazio e tempo nel 1818 la prima nave a propulsione mista cioè a vela e a vapore solca l'oceano la prima ferrovia pubblica viene aperta in inghilterra nel 1825 4 anni dopo nel 1829 l'inglese stefenson presenta la rocket una locomotiva capace di raggiungere la folle velocità di ben 58 chilometri orari nel 1938 la gran bretagna poteva vantare una rete ferroviaria di 750 chilometri che arriverà a 10.000 in soli 12 anni dal punto di vista economico in questo periodo prendono forma due diverse teorie il liberismo ed il protezionismo il liberismo sostiene che lo stato non debba intervenire nei meccanismi economici il mercato è in grado di regolarsi da solo e l'intervento dello stato crea soltanto fastidi al libero scambio e trucca il naturale rapporto tra domanda ed offerta in un'ottica protezionista invece lo stato interviene nell'economia ma non con misure che oggi chiameremmo di equità sociale come sussidi di disoccupazione assistenza sanitaria per i lavoratori eccetera bensì proteggendo la produzione interna attraverso l'imposizione di tasse sui prodotti importati i dazi doganali è importante dire che entrambe queste teorie fanno riferimento ad un unico modo di pensare l'economia che è il sistema capitalistico il capitalismo si basa sulla divisione tra proprietari dei mezzi di produzione e lavoratori la proprietà dei mezzi di produzione detto in maniera più semplice la proprietà dei macchinari è in mano ai cosiddetti capitalisti cioè a coloro che possiedono denaro capitale sufficiente ad acquistarli il lavoro era compito degli operai i quali non possiedono il capitale per acquistare i macchinari e partecipano al processo produttivo con la loro forza lavoro si noti che esiste una grandissima differenza tra operaio ed artigiano l'artigiano possiede i mezzi di produzione l'operaio no l'introduzione delle macchine nel processo produttivo porta ad una meccanizzazione del processo stesso progressivamente non è più la macchina il telaio inizialmente che segue i ritmi dell'essere umano ma è l'essere umano che deve abituarsi ad adattarsi ai ritmi della macchina come già abbiamo accennato la vita dei lavoratori le condizioni di vita dei lavoratori sono estreme gli orari di lavoro sono massacranti e possono arrivare fino a 16 ore al giorno non esiste nessun tipo di tutela e la parola malattia spesso diventa sinonimo di fame non vi era alcun riguardo per le cosiddette fasce deboli della popolazione anzi spesso i datori di lavoro preferivano operai e donne e operai bambini rispetto ad uomini o persone adulte perché donne e bambini costavano meno e si lamentavano meno le vecchie tradizionali reti di relazione sociale vengono distrutte dalla nuova realtà della vita industriale della città industriale la nascente società di massa porta con sé l'anonimato di massa nei nuovi quartieri operai dilagano prostituzione ed alcolismo in un ambiente caratterizzato da un perenne sovraffollamento con particolare riferimento all'alcolismo un fenomeno che nella sua accezione moderna nasce con la società industriale voglio riportare due passaggi di Schiffelbush in particolare di un suo libro intitolato storia dei generi voluttuari spezie caffè cioccolato tabacco alcol e altre droghe Schiffelbush scrive nell'ubriacarsi in massa caratteristico di quest'epoca si rispecchia un'altra catastrofe sociale quel che eufemisticamente si chiama esodo dalle campagne e che in effetti fu la cacciata della popolazione di interi paesi dalle loro terre per mezzo delle cosiddette recinzioni altro eufemismo per esproprio da parte di latifondisti costituisce lo sfondo o piuttosto il terreno di coltura dell'epidemia di acquavite l'acquavite deve servire a far dimenticare almeno temporaneamente questo insopportabile modo di vivere il suo prodotto non è semplicemente ubriachezza sociale ma inebedimento è così che inizio il bere individuale un modo di bere limitato all'europa industrializzata e all'america in tutte le altre epoche e tutte le altre culture il bere è rito collettivo non è un caso che proprio in questo periodo si diffondano i superalcolici come beni di consumo prima erano destinati prevalentemente ad uso medico nel 1779 viene fondata la distilleria nardini a bassano del grappa la più antica distilleria della penisola italiana il barbon più antico il gin bim nasce nel 1795 un'attenzione particolare però va riservata a un altro superalcolico il gin un superalcolico che giocherà un ruolo di primo piano sul palcoscenico dell'inghilterra industriale il gin viene creato dalla scuola di medicina salernitana parliamo del nono secolo dopo cristo e diviene bevanda di consumo in inghilterra a partire dal 1690 inizialmente è destinata all'esercito per poi con la nascita delle fabbriche diffondersi tra gli operaio fino a che ad un certo punto viene usato addirittura come mezzo di pagamento una parte della paga veniva pagata in natura appunto in gin la produzione di questo superalcolico la possiamo dedurre dagli incasi delle imposte ad esso legate secondo questi dati la produzione del 1743 era arrivata in inghilterra a 70 milioni di litri all'anno su una popolazione complessiva di 6 milioni di abitanti compresi i bambini sempre da schiffelbush possiamo trarre quest'altro interessante passaggio che ci parla del nascere della cosiddetta etica borghese attraverso la quale la borghesia si sforza di distinguersi sempre più sia dalla nobiltà che dal proletariato scrive schiffelbush a partire dal diciassettesimo secolo dalla borghesia il bere smodato viene considerato sempre più sconveniente non è che l'alcol venga bandito completamente ci si limita ad addomesticarlo il borghese beve moderatamente e lo fa in circoli privati a casa al club al suo tavolo riservato nell'inghilterra vittoriana cioè l'inghilterra del diciannovesimo secolo infatti frequentare l'osteria è quasi altrettanto scandaloso che far visita un bordello ci furono tentativi di ribellione da parte degli operai contro la meccanizzazione dei processi produttivi il più famoso di questi tentativi fu il sabotaggio dei macchinari noto come luddismo e nacquero le prime associazioni di mutuo soccorso tra gli operai nel 1824 in inghilterra le associazioni operaie ebbero un riconoscimento legale e nacquero le trade unions nel corso del diciannovesimo secolo iniziano le prime critiche sistematiche al sistema capitalistico in sé nel 1848 viene pubblicato il manifesto del partito comunista ad opera dei tedeschi karl marx e friedrich engels il comunismo si pone come un movimento transnazionale che pone al centro del suo pensiero la concezione della storia dell'umanità come eterna lotta tra proprietari dei mezzi di produzione e laboratori le parole che chiudono il manifesto diventeranno uno degli slogan più famosi del movimento comunista un movimento destinato a segnare profondamente la storia del ventesimo secolo queste parole sono proletari di tutto il mondo unitevi i cambiamenti portati dalla prima rivoluzione industriale sarebbero stati amplificati dalla nuova ondata di invenzioni e scoperte che avrebbe caratterizzato la seconda parte del diciannovesimo secolo insieme di cambiamenti questi e insieme di invenzioni note come seconda rivoluzione industriale di questo parleremo nella prossima puntata a presto